Siamo qui con Sergio Velluto, presidente del concistoro della Comunità Valdese di Torino. I valdesi hanno una notevole presenza in Piemonte, sono circa 20.000, soprattutto nelle cosiddette valli valdesi, cioè nella Val Chisone, in Val Gernemanasca, ma anche molto qui a Torino. Parliamo col dottor Velluto della presenza soprattutto dal punto di vista sociale in città e non soltanto in città, in tutto il Piemonte. Che cosa chiede la Comunità Valdese alla nuova giunta regionale che si sta formando in questi momenti? Io chiederei varie cose, chiederei quindi a dirne tre. Prima di tutto chiederei, usando una terminologia, scusatemi, religiosa, anche se siamo in una sede politica, chiederei soprattutto una conversione. Se il termine religioso non va bene, usiamone uno automobilistico. Una conversione a due, insomma un cambiamento, perché noi usciamo da fatti di cronaca legati alle nostre regioni italiane, non soltanto al Piemonte, che ci hanno lasciato veramente con rammarico. E quindi chiederemo un cambiamento alle persone che sono state lette dai cittadini, perché si occupino realmente del benessere della comunità, mettendo in secondo piano, dimenticando completamente quelli che sono i propri vantaggi, i propri interessi. Quindi questo per prima cosa. Il politico italiano deve cambiare perché glielo chiede l'elettorato è una società matura e una società europea. In Piemonte ci sono i valdesi, ci sono gli ebrei, ci sono tante comunità di cultura diversa e ci sono anche tanti stranieri che stanno arrivando nella nostra regione in questi ultimi anni. Come integrare queste diverse religioni, queste diverse culture? In che modo anche la comunità valdese può aiutare l'integrazione e l'aiuto soprattutto sociale? Sì, come seconda cosa ai nostri politici piemontesi, come rappresentante della più antica etnia e religione, diciamo, diversa presente nella nostra regione da più di otto secoli, chiederei un'attenzione a quella che è la realtà cambiata ormai da decenni della nostro territorio. Noi valdesi ormai siamo pienamente integrati, godiamo di tutti i diritti civili, anche se in Italia non esiste ancora una legge sulla libertà religiosa e vorremmo spendere la nostra integrazione e il nostro essere ormai cittadini al pari degli altri, proprio rispetto ai cittadini che sono arrivati più recentemente, con una propria cultura, con grandi numeri perché sono popolazioni ormai importanti nella nostra regione e anche con una propria religione. Tutto questo comporta la creazione, ormai lo vediamo soprattutto nei quartieri e nelle città dove è più forte questa presenza, comporta la creazione di una società multiculturale. La società multiculturale necessita di risposte diverse dal punto di vista della laicità, del pluralismo, anche i nostri politici devono aprire la mente e pensando di non essere più i politici di una piccolo Stato sabaudo, ma di uno Stato che ha una grossa tradizione culturale e storica, ma che ormai fa parte del mondo. I valdesi hanno tradizionalmente diverse istituzioni in città che si occupano di sociale e quindi devono necessariamente rapportarsi con le istituzioni. Come funziona o non funziona il rapporto con le istituzioni? Come si auspica che possa funzionare d'ora in avanti? Non solo noi come comunità religiosa, che è un forte lavoro e impegno nel sociale, abbiamo decine di istituti di assistenza, case di riposo per anziani, ospedali valdesi rinomati qui a Torino, ma anche centri per la gioventù, per il turismo sociale, attività di accoglienza per i rifugiati. Non solo noi quindi, ma anche tante altre associazioni, tante altre comunità religiose spendono gran parte del proprio volontariato nei confronti di chi ha delle situazioni di disagio. Questo soprattutto negli ultimi anni, quando il welfare ha ridotto i propri interventi, la propria capacità di investire in questi settori. Allora noi chiederemmo ai politici, chiederemmo alle istituzioni in generale di aiutarci, di collaborare con noi, soprattutto non mettendo paletti, non mettendo ostacoli, non procrastinando progetti che sarebbero già finanziati e che potrebbero partire subito perché la macchina dello Stato, sia essa macchina regionale che comunale, purtroppo è arrugginita o ci sono dei binari che non sono così oleati. Questo lo chiederei soprattutto in Piemonte, dove noi pensiamo così, con grande senso di responsabilità, di avere un riconoscimento molto forte da parte dei cittadini piemontesi e lo misuriamo attraverso le firme dell'8 per mille alla Chiesa Valdese. Noi siamo solo 20.000, una percentuale molto bassa rispetto alla popolazione piemontese, però le firme che raccogliamo, cito il numero della provincia di Torino, di contribuenti che destinano alla Chiesa Valdese il proprio 8 per mille, è pari all'8% dei contribuenti della provincia. Quindi un grosso riconoscimento per la nostra attività sociale, ma anche una grossa responsabilità da parte nostra a portarla avanti. Ecco, noi chiederemmo al Consiglio regionale che si verrà a formare a partire da oggi di tenere conto che c'è bisogno dell'aiuto. Non vogliamo i soldi pubblici, volontariato, soldi raccolti attraverso altre strade, ma fateci rispendere per un welfare sostitutivo che spesso l'ente pubblico non ha più la forza di fare. Grazie. Grazie.